Allora, quello che ho passato in questo periodo è stato uno dei periodi più brutti della mia vita Ma più difficili, ok? Perché ci sono state una serie di situazioni che mi hanno messo proprio mentalmente KO E voglio iniziare a fare proprio questo Voglio iniziare almeno mensilmente, quindi almeno portarvi un video al mese Dove vi parlo anche così, da persona a persona Perché non voglio rimanere solo quello che vi guardate, sì, per farvi due risate e poi vaffanculo non ci si caga più Cioè voglio creare un rapporto un po' più, costruire con voi un legame un po' più intimo Chiaro, nei limiti però, un po' più intimo Non so se lo sapete ma io praticamente da qui a 4 anni, l'estate, lavoro in un centro estivo Direte, ma di voi, bestemmi, parolacce, ti incazzi tutto il giorno e lavori in un centro estivo Sì? E sono anche bravo, devo essere sincero, sono anche bravo a fare il mio lavoro Riesco a tenere 80-90 bambini tranquillamente Però ti devastano, capito? Cioè ti devastano proprio mentalmente E quest'estate ho continuato a lavorare nel centro estivo E ho continuato a fare live praticamente tutti i giorni Non è vero, vai via, vai via, vai via! Non lo so perché sto idiota quando... Ma cosa sei scello? Ah mi so... Parla come a Gabbo Ma Gabbo di dove è, scusa? Di Modena Ma io sono ignorantissimo, ho mai la stessa regione di Rimini No, no Modena è in Toscana No Cosa? Ma che cosa fa? Tipo, ma dove avete studiato la geografia? Al Cepu Come in Toscana, Modena? Zio! Ma non puoi sapere solo la Valle d'Aosta, Aosta e Veneto-Venesto No! E portarvi anche qualche video sporatico Però ragazzi, è stata... È stata un'estate che mi ha distrutto da punto di vista psicologico E poi c'è stata la battosta finale Molti di voi la sapranno già per chi mi segue su Instagram O ha visto il post che ho fatto su YouTube C'è stata la battosta finale dell'operazione di mia zia al cuore Che mi ha proprio demolito mentalmente Ma andiamo per gradi Sono molto onesto con voi in questo video Avevo fatto una promessa l'anno scorso Avrei portato più due video alla settimana se ci fossi riuscito Ma non so cos'è successo, ok? Non so cos'è... Non so cos'ho fatto a YouTube Avrò chiamato la moglie del capo di YouTube Molto probabilmente Ma io da gennaio di quest'anno Ho smesso di produrre soldi e visualizzazioni Come facevo una volta, ok? C'è stato il video dei Toti E poi da lì YouTube è come se mi avesse detto Ok, il tuo canale, ciaff, tagliato Metà delle visualizzazioni Metà dei guadagni Ma magari metà dei guadagni Un ottavo dei guadagni Se non avevo più 150.000 iscritti Ne avevo 5, a Dio voglia Io veramente vorrei portarvi più di un video a settimana, due Spiegatemi voi come cazzo faccio io Prendendo come esempio gli ultimi video, quelli di Outlast La parte 1, quando l'hanno vista in 40.000 persone Con la monetizzazione ristretta mi ha fatto 21 dollari, ok? La parte 2, con la monetizzazione piena mi ha fatto un dollaro Cioè se vado alla stazione a culo nudo Prendo di più Farò 5 euro in un'ora secondo me 5 scemi che si mettono a ridere e mi danno un euro li trovo Alla stazione a culo nudo Oppure la cosa più logica è fare le live Cioè faccio le live, un dollare e 70 lo faccio con una sub E mi lasciano anche la mancia E quindi ho dovuto quest'estate dare più importanza alle live I video su YouTube adesso torneranno Perché comunque inizia una nuova stagione Cioè ho più tempo, il lavoro è finito Cioè è inutile che vi sto a dire Ne farò 3 a settimana, no? Cioè 3 euro, 3 a settimana sono 3 dollari Comunque finito questo periodo di stress incredibile estivo Quindi lavoro estivo tutti i giorni, live eccetera Ho detto ok finalmente mi posso riposare Operazione al cuore di mia zia Per chi non lo sapesse mia zia si è dovuta operare al cuore L'hanno chiamata di urgenza la valvola Non so se sapete come funziona il cuore però Cioè 4 reparti il cuore, 2 sopra e 2 sotto Il sangue passa dai reparti sopra a quelli sotto tramite una valvola Si apre, passa il sangue e si chiude Se questa valvola inizia ad aprirsi, non chiudersi bene Aprirsi e metterci troppo a chiudersi Aprirsi e fare un po' di numeri A diventare un po' pazzerella Te la devono cambiare Mia zia gliel'hanno riparata Ok? È stata un'operazione molto difficile Perché comunque ti aprono come un agnellino Da qui a qui Si aprono e poi vanno a lavorare sul cuore Sembra che l'operazione sia stata Cioè lì per lì vi dico l'operazione Dicono è andata bene bene Però stiamo vedendo che mia zia ci sta mettendo Un po' a rimacinare Ok? A macinare A tornare un po' in vigore La vediamo molto stanca Quindi adesso stiamo aspettando Io in questo periodo ho dovuto dare un aiuto ai miei in negozio Mio fratello era fuori perché era andato in vacanza Mia mamma è andata a Milano con mia zia Io non potevo lasciare mio babbo da solo in negozio a settembre E quindi questi giorni avevo proprio abbandonato tutto Cioè il mio unico obiettivo era aiutare i miei Io sono stato in negozio con lui dalle 9 di mattina alle 11 di sera Tutti i giorni I miei avevano bisogno di me E non potevo non esserci perché dovevo registrare una live Ho perso dei sub Sì, fanculo, li rifarò Prima era importante aggiustare questa situazione Anche perché ve lo dico io con la testa stavo andando fuori Cioè pensate ad aver lavorato tutte le estate Mattina pomeriggio più live Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni Arriva il momento in cui puoi staccare un attimo Fare solo le live eccetera No, mazzate Mia zia si deve operare al cuore Allora ritorni a lavorare tutti i giorni ancora di più Perché lavoravo 16 ore praticamente 16, 16, 16 Poi nel frattempo sono rinistrati anche gli allenamenti di basket Cioè ero proprio morto mentalmente Cioè non ce la facevo più Avevo solo voglia di tornare a casa e dormire Fino a che appunto tre giorni fa non mi sono preso una pausetta Siamo andati via tre giorni in montagna Io la Dada e due nostri amici E ci siamo presi tre giorni di pausa Pausa è un parolone, ok? Fare 20 km al giorno nel montagna è un parolone Però era proprio la testa che era staccata Cioè non pensavo a mia zia In quel momento non pensavo alle live Pensavo a chi Non pensavo a un cazzo Ero lì in mezzo alle montagne E dovevo sopravvivere Sennò arrivavano i lupi E dopo lì era un patatracche E dopo lì era un casino Dio boss arrivava al lupo Bisogna essere sinceri Wow Amazing Incredible Wow Ero lì Ero lì Ero lì Ero lì Ero lì Ok, ce l'ho. Ci sei? Sì. Cioè, a passo nell'avventura. Oh, non parlate male dei tipi adesso che magari mi seguono su Instagram. Comunque, mi hanno un imbragato. Bisogna aspettare che se sia il verde. Era verde, ma lui era il cellulare e non mi mandava. Infatti, te... Mi sono arrivata molto dopo. Mezzo alla montagna, quella paurina c'è stata. Quando mi sono affacciato e seduto lì sulla montagnetta, c'è stata. Però è stato quel... È stato quel... Quel... Quel brividino che appena l'ho detto, mi sono messo lì, mi sentivo... Oh... Sono Dio. Sono pronto a fare un uno contro uno con Dio da questa altezza. Poi la mia amorosa mi ha preso, mi ha tirato per un regno, mi è andato uno schiaffo. Dai, scendali coglione e continuiamo la passeggiata. Abbiamo fatto tutto il giro delle dolomiti. E abbiamo passato questa vacanzina. Volevo fare anche un vlog di questa vacanzina, però non ce l'ho fatto. Ho fatto solo delle storie, molto divertente perché molto stupide, che potrete rivedere tutte su Instagram. Trentino Trentino. Ok? Ve l'ho messo tutto in evidenza. E per il resto, ragazzi, questa è stata la mia estate. Da qui si riparte, però. Si riparte, perché come sapete, sono in live praticamente tutti i giorni. Per chi ancora non mi seguisse, vi lascio qui in descrizione il mio canale. E per chi avesse Amazon Prime e quindi ha la disponibilità di fare la sub gratuita, voi non potete immaginare quanto possa aiutare una sub. Una cosa che per voi è gratuita, che è l'unica cosa che dovete fare è rinnovare tutti i mesi. A me mi dà una mano incredibile, perché mi permette di avere uno stipendio fisso, diciamo. E guardate che ho fatto sta marchetta alla fine, così nessuno l'avrà vista. Non sono stato un grande, magari era meglio farlo all'inizio, però i fedelissimi la vedranno. Solo voi. È stato un periodo difficile. Speriamo che vada tutto per il meglio. Come vi ho detto all'inizio, voglio entrare nei vostri cuori. Quindi questa serie, questo recap mensile, diciamo, penso avverrà tutti i mesi, da adesso in poi. Non mi farà visualizzazioni, non se lo incaga nessuno, non me ne frega niente. Tanto ormai YouTube, ragazzi, fa il cazzo che vuole lui. Alla prossima!